400 foto di disperazione su gommoni dalla Libia a Lampedusa a formare la faccia del ministro dell'interno Matteo Salvini che quando l'ha visto si è incupito e la sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi, ne ha chiesto la rimozione. Gli autori sono loro, studentesse e studenti del liceo artistico Russoli di Pisa, che io ho deciso di andare a conoscere. L'avete fatta voi in quella scritta? No, no. Però non è male, io sono molto accolto. È una canna con questa? Sì, tabacco. Dove stiamo andando ora? Alla mostra! Alla mostra dell'arte dell'acqua. È un corso che abbiamo fatto sotto la guida di un nostro professore, riferito all'acqua essendo molto presente nella vita di tutti noi. 70% della terra, noi siamo fatti maggiormente di acqua e dall'acqua nasce la vita. Perciò non è che la Levissima vi ha pagato? No, assolutamente. Da lui ci andiamo fra un po'. Ok. Mi fate vedere un po' la vostra. Sì. Questa è stata la nostra opera, tutta è partita da questa foto qua, è stata scattata a Caccheraia e all'acqua. Da lì è partita l'idea di farne tante, creando anche una curva che ricorda proprio un'onda. Bello, grazie. Ho avuto ispirazione da una notizia delle persone che scappavano dalla Libia. Un'imbarcazione compare e quindi ho avuto questa ispirazione della fragilità tra la carta e l'imbarcazione. L'ho messo in una bacinella d'acqua, ha durato più o meno due ore, prima che fondasse. Piano superiore? L'idea è stata pensando alle bottiglie di vetro con i velieri, ma con un tema reale vicino a noi. E per il giorno che cosa vedo io? Un gommone con degli amici di ferro in fondo, ecco. Terribilmente intuitiva? Qui come l'inchiostro reagisce a contatto con l'acqua. E secondo te, qual è il senso? Io l'ho intitolata Turbine di Emozioni, fatto che molte emozioni insieme possono catenare più cose e più colori. Anche in aspettato. Esatto. Abbiamo giocato con le proprietà dell'acqua e abbiamo fatto delle foto deformando il viso. E la boccia? La boccia abbiamo deciso di lasciarla lì. di chi vuole provare comunque a ricreare le foto al libro e a fare. Così? Sì. No, ma per chi chi ha la bianca? Aspetta. Chi ha la bianca, non c'è la bianca, non c'è la bianca. Non c'è la bianca. No, ma che? Prende pazzo le bianca. No, perché? Anche quelli dell'artistico hanno buoni. Perché l'arte è un pezzo di sé e c'è del sentimento quando ci si racconta con sincerità. Non ho detto che sono belli i nostri studenti. Siamo arrivati? Sì. Che roba è? Arte. Un mosaico di tragi, vittime del mare e della vita. Le tessere sono in circa 400 e dovevano essere tutte diverse l'una dalle altre, mentre se ci avviciniamo e la guardiamo più da vicino si vede che sono ripetute perché Alice, una nostra compagna che stava scegliendo le foto, a un certo punto ha deciso di smettere perché si stava sentendo male a vedere le persone che finivano in questo modo. I colori per l'oro riprende il telo termico che usano. È stata scelta la foto del ministro degli interni perché è una delle figure principali e più evidenti in questo momento. Ma l'arte non dovrebbe impicciarsi di politica? Noi non ci siamo impicciati di politica, non abbiamo dato nessuna lettura, soprattutto la lettura che si dà è soggettiva e cambia a seconda del pensiero che abbiamo noi sulla vita, sulle questioni o le esperienze che abbiamo fatto, proprio per questo si dice che l'arte è soggettiva. Non c'è una lettura giusta, è una lettura sbagliata, è semplicemente la sua lettura. L'arte è un lavoro che ci è venuto bene, io sono soddisfatto che sia davanti appena entri a questa galleria perché è molto di patto. Qual è in generale lo scopo dell'arte? Perché fate il liceo artistico? Sono due domande, eh? Sì. Il scopo dell'arte è quello di voler mostrare al mondo ciò che hai dentro. Io vedo l'arte come un messaggio, come un messaggio che a differenza delle parole è universale, il simbolo, come possiamo vedere le vecchie chiese, come i pittori che andavano a fare i dipinti, gli affreschi per raccontare la Bibbia o gli avvenimenti. Da sempre l'arte è un messaggio e io credo che sia il più potente di tutti. La soddisfazione. Che cosa è la soddisfazione? Andare all'artistico. Sì, fare l'artistico e uscire dall'artistico sapendo che puoi dare qualcosa di te al mondo. C'è una frase che vi portate nel taschino? Io sì, ognuna mi ha scritto. E che vuoi dire? Eeeh, sbesta, sbesta, sta seguendo. No, è l'artistico, è levarci la moschera o qualsiasi bello che tu hai. Esatto, esatto. E a scuola che si va a fare? A scuola si va a studiare. Si va a studiare per non essere ignoranti, ecco, perché l'ignoranza non ci rende persone libere. A scuola si va a studiare.